Per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie C Silver maschile, la Sveva Palacanestro Lucera ospiterà al Palasport il 6 febbraio alle 18 il Santa Rita Taranto. La squadra di basket lucerina è reduce dalla prima sconfitta stagionale, ma continua a mantenere il primato in classifica a 22 punti. Le altre partite di questa giornata sono Dinamo Brindisi Angiulli Bari, Cus Bari Cestistica Barletta, Fortitudo Trani Academy Nardò Calimera, Carovigno Basket Monopoli, SDB Lecce Fortitudo Francavilla, Barletta Basket, Assi Basket Brindisi.